Un gruppo di sei esperti francesi è arrivato a Mosca per assistere gli inquirenti russi nelle indagini sull'incidente costato la vita al numero uno di Total, Christophe de Margerie. Oggi inizieranno a esaminare la scatola nera del Falcon 50 su cui viaggiava il patron di Total nel tentativo di capire che cosa sia avvenuto subito prima dell'impatto. Possiamo aiutare gli inquirenti a decifrare la conversazione che è stata registrata in cabina dal momento che il pilota parlava francese. Possiamo fornire dati tecnici sull'aereo perché tra di noi ci sono consulenti del costruttore Dassault e dell'operatore del charter. Siamo qui per dare qualunque informazione possa essere utile alle indagini condotte dalle autorità russe. Al momento si attendono i risultati dell'alcol test effettuato sull'uomo alla guida dello spazzaneve contro cui si è scontrato il jet privato per capire se avesse bevuto, ma gli inquirenti stanno esaminando anche la condotta dei controllori di volo e dell'equipaggio del Falcon.